Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono venuto a vedere la gara internazionale di Calis Tennis, come tutti gli anni, la Barney Gate Cup. E oggi sono qui a sostenere, ad assistere questo atleta fortissimo. Vi presento Di Marco, Daniele, molto forte. Veramente un ragazzo mostruoso. Quanti anni hai adesso? 17. 17? Quasi 18. Cioè già a 17 anni, ragazzi, fa delle skills assurde. Infatti dopo vi condividerò il set, tanta roba. Intanto mi congratulo per la finale, complimenti bro, tanta roba. Di Marco! In bocca al lupo, mi raccomando, metticela tutta. Vediamo come va, anche l'avversario non è da poco, molto forte, quindi ne vedremo delle belle. Vuoi aggiungere qualcosa intanto? Farò del mio meglio come al solito, anche se non sono molto in forma in questo periodo. Però ce la metterò lo stesso tutta. Ormai quanto tempo è che pratichi i cali? Quattro anni, quasi quattro anni. Quindi hai iniziato a 13 anni. A 13 anni hai iniziato, raga. Quindi già è un'ottima età per iniziare, quello che consiglio sempre, infatti. Vediamo il braccio. Vedo che sei cresciuto anche di bicipite rispetto a... Mamma mia, qua è assurdo. Qua mi piace il bello definito qua. 17 anni, eh ragazzi. Molto, molto tosto. Comunque mi piacerebbe organizzare una battle un poco più avanti, uno contro uno. Ho già qualche piano. Esatto. Le skills battle che facevo un tempo. Dai, poi ne riparleremo. Intanto concentrati. Grazie. In bocca al lupo, bro. Voglio aiutarti anche a caricarti per bene, ti ho portato due robe. Aspetta. Ecco qui, un bel Energy Aminos al gusto Ribes Nero. A me è il mio preferito comunque. Poi vedi tu, se ti piace. È uno shaker. Ti consiglio 400 ml, c'è un po' d'acqua se vuoi caricarti per bene. 10-15 minuti prima, a me personalmente, carica tanto. Lo uso di solito per legarsi ai braccio di ferro. Magari piano piano lo sorseggio. Sì, io consiglio un colpo secco 15 minuti prima. Poi vedi tu, se vuoi solseggiare, perché l'effetto diventa più lento. Poi vedi tu come preferisci. E basta, dai. A tra poco, gamba. ...tra amici, la cosa più importante. E quindi, a caldo, questa lotta, questa battle per il piatto posto tra due amici. Nonché colleghi, nonché rivali. Sensazioni e ma... Come la sfida precedente, avranno a disposizione i 27 a 45. Noi ti facciamo concentrare ancora un rapido. Allora, abbiamo inizio a questa finale. Dobli impatti contro... Di Barco, campione italiano contro il vice campione internazionale. Bardingate, Bardolino 2024. Guardami, perché inizia il tuo countdown, il primo e 45 secondi. 3, 2, 1... Go! Parte così, il livello editor di Marco. Dani Di Marco. Astro, una scelta del calistonics italiano. Chiaro. Floric, continua tu. Io intanto sto più di fianco. Partendo. Eccoci secondi. Ancattendo l'ipò il tempo. Andate nella stile. In time. Rimane tu. Inghiodate. Andate più. Rimane tu. Di quel lato di nuovo. Te lo spetto in più della barra a te. Preto che quasi sono andate. Stoic è tradissimo. 10, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Vanno andate. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1, GO! Di nuovo su! E vola così! Ha il rai, si è la colere! Abbono le mani del risaline! E' la pittare! Non è giusto! Non è giusto! 15 secondi a mani! 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10! Rimane lì! Una botte risposta! Non è giusto! Non è giusto! 12 secondi per 3! Continua la bascolità di Bologna! Bologna! Domini infatti contro il taglio di Marco! Quando finirò di parlare mancheranno 5 secondi! 4, 3, 2, 1, stoppa! Non c'erano 90 secondi! Diviso Gagletti! Parte i tagli di Marco! Sono i tuoi ultimi! O adesso o mai più! Il campione italiano! Vuoi diventare davvero il campione internazionale di quest'anno! Devi dare tutto! 3, 2, 1, go! 2! E qualcheven porte! 2, 1, go! 3, 1, go! 2, go! 2, 1, go! 3! 1, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 4, go! 24, 3! 4! più massimo, ho messo da un cantina, nei giorni in su, 10 secondi, ancora un cantina e ancora sui vento aiutini, la piattaforma di ballare sono 5, 4, 3, 2, 1, go! Abbiamo detto a Dani che doveva dare tutto per passare da oltre il campione italiano internazionale, l'anno scorso sei arrivato secondo, questa è la possibilità o di pareggiare quanto ho fatto o di migliorarti, 45 secondi e un muoto per Dominic, 3, 2, 1, go! Parte così anche gli ultimi 45 secondi di Dominic, replica sulla dita, un attese, l'artissimo per andare alla sbarra, inarci e stai, vincola da Dani, replica così, al set appena lì del suo rimane, tagli e arruinati, torni, facci, luscia, l'impresa subita, guarda le pannelli che vanno a quanto bancano, 15 secondi che lo separano da un'altra volta, e se sapete ancora per te, hai ancora tempo con un treda e forse un altro, no? 5, 4, 3, 2, 1, go! Un grado applauso per questi atleti! Vincenzo! L'International Party Game Cup, stati, classico e poco e più che dir si voglia! Chi fort'è? Toni Di Volker! Doppietta per questo giovane ragazzo che ha fatto sia il campione italiano che internazionale, vedi loro sono alti, adesso la coppa e le congratulazioni le fa il sindaco di Bartolino, mettiti nel gradino più alto, goditi il momento, Dani Di Marco! Secondo posto per Dani Pastic, terzo gradino per i furi campioni nazionali e internazionali, Emanuele Maieri, di ritorno alle gare! Complimenti a tutti, continuiamo con l'applauso, ringraziamo, continuate pure!